L'Italian Luxury Club è il primo club membership con Serzeli di lusso che nasce adesso a breve a Monaco. Sarà un club sicuramente molto riservato per accedere praticamente il socio, il membro dovrà acquistare una carta, questa carta dà accesso a una serie di servizi privati che daremo nel club, una serie di benefici legati a tutto il panorama chiaramente del lusso, siamo aperti anche ad inglesi, americani piuttosto che svizzeri, insomma è una comunità grossa a Monaco quindi ci apriamo a tutte le persone di un certo livello, di qualsiasi nazionalità. Italia Luxury perché vogliamo far capire al mondo e all'Europa che l'Italia è sinonimo di lusso, noi italiani siamo bravi nel lusso quindi riusciamo a fare delle cose veramente molto molto belle. Grazie a tutti! Grazie a tutti!